Ciao a tutti ragazzi bentornati su un nuovo video, oggi ragazzi siamo qui per farmi un video, una scherza a mio cugino infatti siamo nella stanza di mio cugino il fratello di mio cugino il fratello maggiore che è perché Christian mio cugino la play sopra in camera sua appunto sono andata in mani per non farmi scoprire, ora faremo una reaction bellissima perché lui sclererà sta facendo, vabbè, ha perso la weekend league e quindi non è passato a Euro 3 quindi ora sta provando a passare a Argentuno quindi usciamo dal bagno e spegnemo la luce ora vi faccio un draft ma perchè la boomerang è uscita la boomerang 89 se lo vediamo ok c'è bellissima, cookie c'è bellissima oh mani st per culo ok ragazzi sta riuscendo il ruolo, io mi sto inventando i giocatori, quindi nei commenti non scrivete che dici quando lui gioca, perchè ha detto mani sd, sono giocatori che escono nel gioco e quindi io li dico per farlo entrare e non pensare che sto facendo il video, perchè poi di nascosto lo mando sul mio telefono e lo invierò sul canale non so se mi avete capito facciamo sto draft non so se mi avete capito facciamo lo invito Grazie. Oh, mamma, 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 troppo, 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 troppo. Oh, mamma, 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 no, non so, di prima. ragazzi mi sto inventando tutte le scuse per credere che non so che sto facendo il draft ragazzi vi volevo dire state aggiornati perché il mio cugino quando mi farà l'account del telefono me lo passerà sulla play farò video anche su fifa sulla carriera e tra 2-3 mesi cambierò tra qualche mese forse 2-3 mesi cambierò casa, aprò wifi e farò anche video di fortnite quindi raga rimanete sindurizzati ragazzi lui dopo si farà orgento 1 visto che non ha perso la weekend league non è passata la weekend league perché ha perso 3 partite e non va a oro 3 per continuare la weekend league quindi sta facendo tutto per arrivare a argento 1 e se vince se vince questa partita più un'altra no si faremo la carriera si invece la perde dovrà fare altre due e vincere se invece le perde questa e le perde l'altra non passa neanche a argento 1 quindi faremo subito la carriera questa pagina la parola per la parola è è è è vediamo qua